benvenuti a una nuova puntata di la prova del provo la soluzione al quiz della settimana scorsa è un miliardo di chili di patate oggi vi insegnerò a preparare la pasta al sale con i pomodorini di melanzane gli ingredienti per il piatto di oggi sono 400 grammi di pasta 800 grammi di sale un chilogrammo di grammi 3.000 melanzane un pennarello rosso olio vaniglia di cane come prima cosa sbucciate la pasta con uno sbucciapasta tenete la buccia che lo useremo più tardi come decorazione nel frattempo mettete a scaldare il sale in microonde per cinque ore mentre aspettate che il sale si amalgami è ora di preparare i pomodorini frullate il pennarello rosso tagliate le melanzane a forma di pomodorino e versate il succo di pennarello su un cucchiaio poi gettate tutto dalla finestra fate una piccola danza frullate il frullatore ed ecco i nostri pomodorini di melanzane nel frattempo il sale sarà arrivato alla giusta temperatura versatelo in un bicchiere dove avrete pensato la vaniglia radioattiva mettete il bicchiere in una pentola e aggiungete pomodorini mettete la pentola in forno mettete un forno in un altro forno aggiungete olio e pasta sbucciata infornate il tutto mettete il vostro piatto in un bicchiere servite freddo accompagnato con una sprite sgasata ed ecco che anche oggi abbiamo preparato un ottimo piatto il polpettone di panettone di polpettone ricordate che potete usare la buccia della pasta come decorazione per i muri o per il vostro cane e ora vi lascio al quiz della settimana alla prossima puntata che bontà mamma zitto e liata stupido a 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 Grazie a tutti.